buon pomeriggio da daniele burigana della giovane italia e benvenuti al centro sportivo green club di roma questa è lazio fiorentina sedicesima giornata del campionato nazionale under 18 girone a i padroni di casa sono all'ottavo posto alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica la scorsa giornata hanno pareggiato uno a uno in casa del cesena gli ospiti si trovano in seconda posizione a sole due distanze dalla roma capolista nell'ultima giornata hanno pareggiato in casa contro il genoa con un pirotecnico 3 a 3 passiamo ora alle formazioni i padroni di casa guidati da mister durso si affidano al solito 4 3 3 due cambi rispetto alla trasferta di cesena bigotti e casonato cedono il posto a giubrone e sardo con oliva che scala nella posizione di laterale sinistro in difesa gli ospiti guidati da mister papalato rispondono con un inedito 3 4 3 viste le numerose assenze 4 volti nuovi rispetto alla gara contro il genoa in porta caroti in difesa elia a centrocampo largo a destra italiano e in cabina di regia ievoli la prima occasione del match è per la lazio oliva fa partire uno spiovente dentro l'area di rigore cannatelli fa due volte la sponda di testa fino a quando il pallone arriva sul sinistro di sardo che prova la conclusione ma è debole e di facile lettura per caroti al ventunesimo gude livicius manda in profondità per scuderi che supera facilmente oliva si sposta il pallone sul sinistro e prova la conclusione sul primo palo attento renzetti che blocca facilmente la sfera al ventinovesimo è ancora la lazio ad essere pericolosa oliva riceve a sinistra e converge verso il centro la sfera passa poi per nazario arriva a troise che se la sposta sul destro e prova la conclusione da fuori area si allunga caroti che respinge e manda in calcio d'angolo la ripresa si apre con i padroni di casa in avanti sardo entra in area ma poi decide di scaricare a sostegno per oliva che di prima sperisce sul secondo palo dove tutto solo cannatelli prova il destro ma è impreciso e colpisce un compagno di squadra occasione al primo minuto per la lazio ancora bianco celesti in avanti ancora da sinistra con oliva che fa partire il solito spiovente in area sul secondo palo cannatelli dopo un rimpallo si ritrova il pallone sul destro a pochi metri dalla porta maccaroti compie un miracolo e salva la viola punteggio che resta inchiodato sullo 0 a 0 il primo squillo per gli ospiti arriva al ventinovesimo della ripresa mendoza scarica suglievoli che manda benissimo in profondità verso dama il numero 18 contro i due difensori si porta il pallone sul sinistro e fa partire una conclusione che però termina di poco alta sopra la traversa angolo per la lazio battuto da oliva sul secondo palo re davide fa una sponda centrale ed il primo ad avventarsi sul pallone è il difensore centrale bianco celeste matteo zazza che porta così in vantaggio ai suoi a poco più di 10 dal termine 1 a 0 per la lazio ancora in avanti i padroni di casa alla ricerca del raddoppio della salandra dopo una sponda trova largo a destra cannatelli che rientra sul sinistro prova la conclusione a giro maccaroti e a attento e gli nega la gioia del gol scocca il cinquantesimo sul cronometro ed in contemporanea arriva anche il triplice fischio il direttore di gara lazio fiorentina termina qui sul punteggio di 1 a 0 per i padroni di casa lazio che conquista la sua seconda vittoria consecutiva fra le mura amiche fiorentina che perde terreno sulla capolista roma e scivola al terzo posto in classifica